E' aperto a tutte quelle forze politiche e sociali della città che vogliono condividere una città diversa, una città che l'attuale amministrazione è partita su vecchissimi schemi, io ho la fortuna di avere figli e tutte che lavorano e sinceramente mi sono accorto e penso che sarà una sensazione che hanno avuto tutti i genitori e i ragazzi di adesso che chi è nato negli anni Ottanta, dei vecchi schemi, dei vecchi appiantimenti su cui è vissuta la politica italiana dei vecchi confronti che sono stati fatti fino adesso, ormai non interessano più le nuove generazioni le nuove generazioni hanno nuovi scopi, nuovi obiettivi e noi stiamo cercando di convogliare questi nuovi scopi e questi nuovi obiettivi sulla città per fare una città diversa da quella che è stata negli ultimi anni Vi saluto tutti